Salve Toasters, oggi devo dare un po' di precisazioni sul torneo di Luigi's Mansion 2 mentre velocemente per quanto riguarda quello di Mario Kart 7 vi ricordo che ho già inviato i messaggi personali su come andrà svolto il torneo, fasi e cose così e quindi leggete quel messaggio privato mentre per quanto riguarda quello di Luigi ci sono più cose da dire, non è assolutamente niente di così grande però preferivo farlo in un video più che in un altro messaggio personale e sì, innanzitutto ricordo, dato che possibilmente qualcuno me lo chiederà chi non ha compilato il modulo di entrambi i tornei non ha ricevuto il messaggio personale perché appunto mi servivano quei dati che voi scrivevate nel modulo per poter organizzare il torneo stesso e per quanto riguarda Luigi, il torneo si svolgerà il 2 giugno per tutti i gruppi l'ora sarà per il primo gruppo alle 15, per il secondo alle 16 che è il mio gruppo, per il terzo alle 17 per l'appunto la modalità come ho scritto nei messaggi personali sarà cacciatore normale 5 piani ho già scritto chi deve creare la torre e il punteggio, perché ci sarà un punteggio non ci saranno i risultati che dà il gioco infatti i risultati del gioco non mi piacciono tanto e ho deciso di organizzarli in un modo diverso per poter vincere applicherò una formula matematica che serve a determinare il vincitore ossia non dipende dai wow, cioè il peso dei fantasmi come dice il gioco ma dipenderà dai wow dei fantasmi per 10 più i soldi presi per 15 meno le perdite effettuate per 500 che vi sembrerà una cosa enorme però noterete che potete fare una o due perdite non è che sarà un chissà che dispreco mentre meno i cuori persi per 7.5 i cuori persi e le perdite dovrebbero essere nella seconda sezione del punteggio una volta arrivati i risultati della torre si dovrebbe capire abbastanza facilmente ho affidato il compito a principalmente chi crea la torre di darmi il punteggio mentre per il mio gruppo che è il secondo il punteggio lo do io e basta, questo è tutto per quanto riguarda il torneo ci vediamo il 2 giugno in cui farò streaming del mio gruppo streaming del solo audio ovviamente perché non riesco a registrare il video e niente, spero che abbiate capito più o meno attivere i commenti nel caso in cui abbiate qualche domanda io vi risponderò qualche richiesto, cose così e non c'è altro da dire bye bye